L'associazione ciclistica ASD di Terme Vigliatore ha lanciato un progetto nazionale dal titolo Sicuri in bicicletta, che vede protagonisti i ragazzi delle quarte delle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo di Terme Vigliatore, in collaborazione con la Polizia Stradale e l'Associazione Ani delle Assicurazioni. Protagonisti di questo progetto anche i ragazzi dell'Istituto Copernico di Barcellona Pozzo di Gotto, con la partecipazione del tecnico Sottile Antonino Tindaro, designato dalla Federazione Ciclistica e di Angelo Valenti. Da maggio è previsto un nuovo progetto, chiamato Biciscuola, con l'obiettivo di un buon utilizzo della bicicletta e di dare delle nozioni di educazione stradale e di alimentazione, in collaborazione con il Giro d'Italia. Si tratta di progetti finanziati dalla Federazione Nazionale di Ciclismo e dal CONI. Ci troviamo nel nostro campo scuola di mountain bike, il Bici Park Nino Mirabile, che è una struttura che si è stata messa a disposizione da un benefattore qua del paese, il signor Andrea Maio, che dieci anni fa ci ha voluto regalare questo terreno e grazie all'intervento di tantissime ditte che in maniera volontaria e quasi gratuita hanno permesso la realizzazione di questo impianto per realizzare la nostra scuola di ciclismo. Appunto siamo una scuola di ciclismo affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana, abbiamo circa 30 allievi nelle varie categorie, vanno dai giovanissimi fino agli esordienti e agli allievi, anzi abbiamo anche qualche junior. Abbiamo tanti progetti con i bambini, quindi abbiamo iniziato con le scuole e quest'anno abbiamo molte attività, quindi ci hanno finanziato la scuola di ciclismo, la federazione che si chiama appunto a scuola di ciclismo, che è un progetto finanziato dalla Federazione Ciclistica Italiana. Dopo abbiamo anche due progetti con le scuole, anzi tre a dire il vero, uno con l'istituto comprensibile del memiliatore che si chiama Sicuri in Bicilletta e in collaborazione con la Polizia Stradale e l'Associazione Anie delle Assicurazioni Nazionali e con l'istituto industriale Copernico di Barcellona ha anch'esso lo stesso progetto e poi stiamo realizzando a partire dal prossimo mese di maggio il progetto Biciscuola, che è un progetto per la diffusione dell'utilizzo della biciletta, come gli altri del resto, nella scuola e in collaborazione col Giro d'Italia. Ci occupiamo principalmente della promozione dell'attività motoria in generale, però nello specifico qui facciamo prevalentemente l'aspetto che riguarda il ciclismo, sia dal punto di vista ludico-motorio che dal punto di vista agonistico. Noi in qualità di tecnici quindi seguiamo i nostri ragazzi nelle varie trasferte che richiede la stagione agonistica. Diciamo che la stagione è appena iniziata, da circa un mesetto, si proterrà fino a ottobre, settembre, quindi ottobre inoltrato. Ovviamente abbiamo diverse categorie, come diceva il nostro presidente prima a cui far riferimento, quindi partiamo dai G2, quindi la categoria giovanissimi, poi abbiamo diversi ragazzini G3, G4, G5 fino a G6, abbiamo esordienti allievi e anche qualche juniores. Oltre all'aspetto prettamente agonistico cerchiamo di curare dei progetti, soprattutto quest'anno, che ci sono stati finanziati dal CONI e dalla Federazione Ciclistica Italiana, con i quali cerchiamo di promuovere l'utilizzo della bicicletta fra i più giovani, quindi fra i bambini e fra gli adolescenti. Promuoviamo non solo l'utilizzo della bicicletta appunto come mezzo ecologico, ma anche l'avvicinamento a questo sport bellissimo che è la bicicletta, che ha tantissimi benefici per il nostro corpo.